Torna a Bologna il Cortile dei Gentili dopo la sua sosta in città nel 2011 e 2013. L'evento è organizzato dal Pontificio Consiglio della Cultura insieme all'Università di Bologna. Il ricco programma prevede tre giorni di confronti, conferenze e spettacoli. Tema centrale è il tempo, in tutte le sue declinazioni. Dal 26 al 28 settembre teologi, filosofi, scienziati e artisti si confronteranno nella città che ospita la famosa Meridiana Cassini, nella Basilica di San Petronio. Il Cortile dei Gentili era originariamente uno spazio dell'antico Tempio di Gerusalemme, al quale tutti potevano accedere, indipendentemente dalla cultura, dalla lingua o dall'orientamento religioso. Da qui l'ispirazione per il nome di questa nuova struttura, appartenente al Pontificio Consiglio della Cultura, è concepita come uno spazio di incontro e dialogo fra il mondo dei credenti e quello dei non credenti. Nella presentazione della stampa tenuta giovedì scorso nella Sala Stampa Vaticana, il Cardinale Gianfranco Ravasi e il Rettore dell'Università di Bologna, Ivano Dionigi, hanno spiegato l'iniziativa. Il tempo è importante dal punto di vista religioso per una ragione. La religione ebraico-cristiana è una delle religioni quasi in maniera esclusiva squisitamente storica. Cioè, mentre le altre religioni tendenzialmente sono cosmiche, il Tempio è soprattutto lo spazio nel quale Dio si rende presente, la creazione, eccetera. Invece per la Bibbia e per tutta la tradizione cristiana, soprattutto, è la storia, è il tempo. Cioè la realtà più fragile, la realtà più umana. Tant'è vero che vedete anche proprio nella prima pagina della Bibbia, è vero che si crea l'universo, ma l'universo è creato in una settimana. Cioè si introduce subito l'elemento del tempo. E l'incarnazione è un altro, cioè il Gesù Cristo, è la tipica rappresentazione della umanità. E l'umanità è scandita dal tempo, tant'è vero che nasce e muore. E questo è veramente un aspetto che bisogna sviluppare. Il titolo che è stato dato è Il Tempo Casa di Dio, perché gioca su un elemento veramente suggestivo, che è nel secondo libro di Samuele, al capitolo settimo, dove Davide vuole costruire il Tempio. Il suo profeta gli porta il messaggio di Dio che gli dice, a me il Tempio non interessa. E c'è un gioco di parole, perché in ebraico Tempio si dice anche Bait, casa. Quindi il profeta dice, non sarai tu, dice Dio, che costruirai una casa a me, casa, spazio, ma sarò io che costruirò una Bait, Bet, Bait, una casa a te. E che cosa vuol dire Bait anche? Casato. Casato, è la dinastia davidica, messianismo, eccetera, è squisitamente il Tempo. E questo è veramente significativo, perché il Tempo è la realtà in assoluto più umana. Lo spazio è una pelle esterna, il Tempo è dentro di noi. L'evento sarà inaugurato venerdì 26 alle 18 nell'Aula Magna di Santa Lucia, dal saluto del magnifico rettore Ivano Dionigi, cui seguirà un dialogo fra il cantautore Gino Paoli e il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente appunto del Pontificio Consiglio della Cultura. Paoli sarà poi ancora protagonista della serata in un concerto assieme al pianista jazz Danilo Rea. Alla serata a parole e musica parteciperà anche il cardinale Caffarra. Il giorno seguente, dalle 19.15, nell'Aula Magna di Santa Lucia, ci sarà una serie di interventi su interrogare il Tempo. Inizieranno Dionigi e il cardinale Ravasi. Seguiranno Roberta De Monticelli, Elena Cattaneo e Francesco Dalco. La sessione si concluderà con i dialoghi fra Massimo Cacciari e Mimmo Paladino, Guido Barbujani e Amedeo Balbi, Enzo Bianchi e Massimo Recalcati. Grande attesa, inoltre, per la prima esposizione pubblica prevista per domenica del Rotolo della Torà, il più antico al mondo per integrità, datato XII secolo e scoperto solo nel 2013. Tanto la provenienza non la conosciamo. Non ci sono documenti che dicono da dove questo rotolo provenga. Sappiamo che la stragrande maggioranza dei codici ebraici della biblioteca universitaria proviene dal convento dei frati di San Salvatore. Non conosciamo assolutamente altri rotoli del pentateuco ebraico interi di questa datazione. Siamo andati sul sicuro addirittura con due carbonio-14. Quindi ad oggi non si conosce intero, perché ce n'è qualche pezzo più antico, ma qualche pagina. E quindi non si conosce assolutamente un rotolo dell'intero pentateuco ebraico con queste caratteristiche pre-maimonidee, come questo qui che non c'è. Infatti il tema del tempo. Si identifica col tema della morte proprio, sia che uno lo interpreti come fine o passaggio. E quello è il tema, è il problema. Perché noi oggi rischiamo più che il provincialismo di spazio, quello ognuno mette riparo con la globalizzazione, viaggiando, imparando le lingue, andando a Itio, facendo le vacanze, chissà dove. Tutti siamo preoccupati di abolire il provincialismo di spazio. Quello è facile oggi. Come diceva Elliot, il problema è il provincialismo di tempo. Questo che ci affligge. Noi crediamo che la vita e il mondo si identifichi con il nostro segmentino, invece a questo capitale che si chiama vita umana. Di questo capitale le azioni le detengono tutti. Sia i trapassati, sia quelli che verranno dopo di noi. Quindi è il tempo. E noi abbiamo bisogno tanto di storia oggi. di non essere provinciali, di non essere affetti dal provincialismo di tempo. E questo è un banco di prova, è proprio un bel test per credenti o non credenti. Io amo dire che credente è il participio presente del verbo credere. E non credente è il participio presente. Perché uno può avere...